Salve e benvenuti a un'altra puntata di In Cucina con la signora Marianne Giangiaaaaaa Lo show giornaliero che carica tutti i giorni un video nuovo di cucina Ma l'ultimo video che hai caricato è stato letteralmente il 13 dicembre 2014 Tutti i giorni Tutti Oggi prepareremo insieme una classica ricetta della mia nonna Blorga Ed è per questo che l'ho invitata qui in studio con noi Facciamo un bell'applauso a mia nonna Nonna, che effetto fa a essere su YouTube? La ricetta di oggi sono i ginocchi di patate con il ragufo Un tipico piatto della Corea del Sud Tirolo vicino a Brescia Ingredienti per 4 persone o per 2 ciccioni 25 patate Farina senza glutei Bicarbonato Cicarbonato Dicarbonato Ecarbonato Fcarbonato Un uovo Anzi no 300 uova Anzi no 1.200.000 uova Cannella Zen 0 Zen 5 Noce moscane Noce moscata Una cibolla Aglio Un filo d'olio Un gufo bello fresco Sale E scende Ah 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 Era uno scherzo Lo scende non è un ingrediente che esiste Volevo dire 300 grammi di uranio impoverito Procedizione No aspetta Preparamento Ma cosa? Preparevo l'azionamento Prima prepareremo il ragufo E poi i nostri buoni ginocchi di patate Solo alla fine libereremo i nostri ostaggi Fase 1 Il ragufo Il ragufo è una salsa che fin dall'antichità accompagna i piatti come Quelli bassi Quelli fondi Quelli medi Ecco Per prepararlo avremo bisogno innanzitutto di un soffrittino Tagliamo la cibolla con il filo d'olio Tritiamo anche l'aglio sbattendo forte la faccia sul tagliere Mettiamo tutto a soffriggere con sale e olio d'olivia Quella di braccio di ferro In una padella viola Se non avete una padella viola smettete subito di cucinare Non meritate né di cucinare né di vivere Mi fate schifo Quando il soffritto avrà raggiunto il classico colore arcobaleno Prendete il gufo che avrete storito dandogli la password di Netflix E con un escamotage Attiratelo nella padella Lasciate tutto a friggere per 400 milioni di anni Mescolando ogni era geologica Quando l'entropia è aumentata esponenzialmente Il sole inizia a bruciare l'elio al posto dell'idrogeno E ha ormai inglobato Marte Venere e manca poco perché distruga anche il pianeta Terra Il ragufo è pronto Decorate con uranio impoverito Fase 2 I ginocchi di patate Bollite le patate in una grande pentola viola Mi raccomando viola Quando sono morbide come il tocco di una fata Sono pronte per essere sbucciate Togliete la buccia con uno sbaboz Il pratico strumento che tutti hanno in cucina Spiaccicatele tutte in una terrina viola Con una forchetta che avrete precedentemente rubato a un poliziotto Questo le aromatizzerà al gusto di rapa O più precisamente di rapina Aggiungete la farina senza glutei Per fare in modo che anche i culiaci Possano mangiare i ginocchi che prepareremo In un forno Nel frattempo mettete un bicchiere dentro a un piatto In un frullatore in un enorme banana Non serve a niente ma tanto Fate tutto quello che vi dico Mescolando la nostra schifosa pappa di patate e farina Aggiungete un milione e duecentomila uova Con guscio Continuate a mescolare energicamente Quando raggiunge la consistenza dell'ungheria Mettetevi ad impastare il tutto su un tavolo Aggiungete cannella, zenzero, zenzinque, noce moscana e noce mosgata Per insaporire E anche perché la ricetta è quasi finita E non le abbiamo ancora usate Dovrebbe risultarvi un composto elastico e malleabile Con questa schifezza create molti David di Michelangelo Anche se non vi chiamate Michelangelo A grandezza naturale Facendovi aiutare da alcuni stagisti O da vostra nonna se non è morta Tagliate loro i ginocchi con una mitragliatrice da cucina Buttate il resto fuori dalla finestra Aggiungete il ragufo che sarà ormai freddo Buttatevi in faccia un pesce Tagliatevi i capelli a forma di Obama Fate una piccola danza Evocate centinaia di spiriti maligni Conquistate la terra Aggiungete prezzimolo Ed ecco pronta la pasta col tonno Servite freddo accompagnato con un bicchiere di birrana La birra ai tortellini Evviva che buona La mia pasta preferita con il mio pesce preferito Grazie Siamo a riaggiaggiaggela Prego brutto stupido Questa puntata vi è stata presentata da Pentole e padelle gialle Ciao Fine Grazie a tutti Grazie a tutti.